Live Social Insomma abbiamo questa bella responsabilità se vogliamo, quella di informare in poco tempo chi ci ascolta riguardo la figura del coach, direi di partire in un modo un po' banale e scontato ma necessario in questo caso da una definizione, quindi che cos'è il coaching e chi è il coach Mattia? Allora il coaching è un metodo di allenamento che è finalizzato ad aggiungimento di obiettivi che vengono definiti come il coaching, in questo caso il cliente, e si basa su una relazione di reciproca fiducia. Il coach, il suo agire professionale, supporta il miglioramento delle prestazioni professionali e personali mediante la valorizzazione delle risorse, capacità e competenze della persona. Il coach diciamo che è un metodo che permette di supportare l'infiluppo delle persone e non ha limiti di campo, può essere utilizzato nello sport, nel business, nel life, ci sono varie discussioni ma diciamo che il metodo può essere approcciato un po' da tutti. Il mio campo di intervento principale è lo sport, lavoro principalmente con gli sportivi, quindi il miglioramento delle prestazioni e poi intervengo soprattutto in ipotesi di crisi di autogoverno, quindi life coaching, quindi situazione di miglioramento delle relazioni e gestione delle emozioni. Quali possono essere quindi i benefici derivanti dall'intervento del coach nella vita della persona? Allora sicuramente il coach permette di sviluppare un più alto grado diciamo di consapevolezza e di responsabilità e supporta le persone al miglioramento generale delle proprie prestazioni e supporta diciamo quella che è l'autodeterminazione delle persone. Il ruolo principale di un coach per differenziarlo dalla consulenza e dalla psicologia è quello di far sì che la persona possa far emergere le proprie diciamo risorse e le possa fare in modo autodeterminato, quindi è un supporto e il coach non darà consigli ma permetterà alla persona di elevare le proprie diciamo qualità intrinseche. Vorrei informare chi ci ascolta per chi volesse appunto approfondire un po' queste tematiche insieme a Mattia, che Mattia lo troviamo in Veneto in particolar modo a Jesolo, ma per avere un contatto diretto c'è una mail quindi coach migliorini-outlook.it e anche un numero di telefono 340-650-9246. Io ho detto questo ringrazio ovviamente il nostro ospite e quindi ringrazio Mattia Migliorini che saluto, grazie mille, ciao Mattia buon lavoro ovviamente. Grazie Claudio, buona giornata. Ciao, ciao a tutti. Però le interviste e le storie non finiscono mai, sempre qui ovviamente su Live Social.